Questa domanda è una notantina di questa bellissima salata, abbiamo uno spettacolo. È facile, l'abbiamo lasciato. No, no, perché in realtà io c'è tutto spesso di parlare e idealmente non si è stato là ad ascoltare, perché io faccio che un figlio, però in realtà mi penso che un risetto, cioè così. Io faccio un conto a favore, io inizio come se fossi un membro, perché un'associazione di archite, qualche giorno, anche ragazze che inizio, in generale eravamo un po' pazzo, perché amici facciamo un po' pazzo così, perché poi parlare in mafia, ti faccio parlare in mafia di un gioco proprio a Roma, e la difficoltà è stare là ogni giorno, quindi... Ma che parlo, perché siamo un'altra parte? No, no, veramente è di tutto molto più grossi da in mafia, io ho tolto ben affermi di un cattino, perché parlo sapendo di quello che il cazzetto ora in qualche modo mi legittima, cioè se io ho chiesto di dire che poi a un certo punto di qualcosa di segno, parlo sapendo che la mia forza sarà il dito, cioè... Io ho pensato che infatti dovrebbero sapere quelli che dovrebbero essere giocati, non risponde, infatti non risponderò perché... Sì, allora sono passato per un po' di dire di niente, ma è un po' indirizionale, e... Io ho un po' di dire di niente, ma è un po' di merito dei poetti meravigliosi, molto importante della vita. Io ho una passione per la Monserite del Puffa, Io ho un po' di dire di se più esiste, però io ho una quantità da immaginico, esiste. Il problema è che oggi, come oggi, la Monserite del Puffa, ogni volta è che la Monserite del Puffa, è la tua propria domanda. E questo è un crime che la Capora più spera che Dio, si ha trovato di meglio, però infatti mi rende di dubbio che cosa c'è in quella Monserite del Puffa. Ecco, l'affetto che vi faccio in chiudo, non fate, non a me, ma insomma, non dobbiamo avere lo stesso dubbio quando andiamo a fare il conto. Allora, voglio pensare che è buonissimo, senza nessun sicurezza, è buono, dipende da noi, dipende da noi, anche da loro, ma sono tutte le piccole risposte, però loro da soli non ti preoccupano con grandi, questo non è un fatto storico, quindi, ti raccomando di fare il tonico.